ma ciao a tutte ragazze, ciao a tutte ragazze, eccomi qui a registrare perché il video l'avevo già registrato sono andata a vedere giustamente il video ma non c'era l'audio, devo rifarlo e quindi riandiamo a dire quel che stavo dicendo prima in poche parole in questo video sarà un po' diverso dal solito e come quello di lunedì, dei miei sogni, l'altra volta ho detto di incontrare Raimondo Todaro il mio ballerino preferito stavolta andiamo con Raul Bova che vi metterò la fotina qui dove vede delle mie mani dopo metterò la foto e quindi uno dei miei tanti sogni giustamente che spero di incontrare Raul è uno dei miei sogni veramente bellissimi, straordinari, incontrare il mio attore preferito l'attore della mia vita, che dire, il mio attore preferito, l'attore numero uno il top del top, che ho visto tutte le sue cose proprio il giusto perché alcune cose, film vecchi e stravecchi io ancora non ero nata, invece c'era, giustamente e poi giustamente mi recupero tutto con il computer, quelle là poi giustamente poi quelle che conosco le ho viste e quindi il mio super Raul Bova quel attore fantastico che è lui, altro che gli attori quelli turchi e quei che sia questo è un attore top del top da conoscere modestamente unico, irresistibile, troppo 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 bello e spero veramente di incontrarlo, come sapete tengo pure il libro magari se facessero vorrei film a coprire quel libro che tengo le regole dell'acqua oh yes e che dire, magari andare a incontrarlo sarebbe uno dei miei tanti sogni che diventa realtà della speranza mettiamo le mani sempre incrociate che si porta sempre bene e quindi, come ho detto il fatto del libro se farebbe il film a copie perché il libro sarebbe il pass per poi andare a conoscerlo e quindi il suo attore è quella cosa insieme e quindi sarebbe veramente il top del top conoscerlo magari sarebbe del top del top top topissimo e quindi, e questo è il video a me se connesso e quindi un grande bacio e ci vediamo nei prossimi video e quindi, se vi è piaciuto questo video mettete tantissimi like se siete nuovi nel canale se siete nuovi nel canale iscrivetevi al canale e soprattutto accendete la campanellina per vedere così vi arriva tutte le notifiche dei miei video così poi vedete tutti i miei video poi commentate sotto al video e soprattutto condividete i miei video su tutti i social poi seguitemi su i miei social seguitemi in tanti su prima instagram e mi seguite con marimekup09 con il trattino basso e poi il mio secondo canale per dei vlog mi raccomando dico oggi in tanti pure lì marilena marilena eccomi qui ragazzi scusate che la fotogramma del computer c'è staccata eccomi qui come stavo dicendo prima per il mio secondo canale a me se connesso che no questa lì vado a registrare a rilacciarla a quella lì di prima metodo da edito come edito quindi come sto dicendo prima seguitemi in tanti su marilena la supertiva va va 09 salgiamo mi raccomando e andare a vedere tutti i vlog mi raccomando ok quindi vi mando un grande bacio e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti ferma bacio mi voglio un modo di bene ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti